San Michele Nell'VIII secolo una prima chiesa intitolata San Michele venne costruita proprio al centro dell'antico foro della città romana. La ristrutturazione iniziata nel 1070 si protrasse fino al XIV secolo in vari momenti, ma verso il 1200 il più era già fatto ed era questo nel 1200 la chiesa prese la sua attuale forma e immagine. La facciata è stupenda ed è a quattro loggetti sovrapposte con ampia presenza sulle colonnine e sulla muratura di decorazioni a basso rilievo o a tarsia che appunto attorno al 1200 danno un gusto oramai gotico alla chiesa. È sormontata da una grande statua in marmo dell'Arcangelo Gabriele, ai lati due angeli, molto bello, pieno di particolari, di grande bellezza e d'armonia che ho cercato di fissare nelle immagini. a 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